allora dobbiamo raccontarvi un fatto davvero davvero increscioso perché un tizio con una sorta di motorino elettrico con i pedali ci ha fatto un sorpasso a destra ovviamente andrea lo stava prendendo in curva a destra e lo stava prendendo e quindi che ha fatto e gli ha suonato semplicemente è anche fin troppo gentile perché io istintiva già avrei iniziato a urlare quindi fin troppo gentile ma questo tizio non ci ha inseguito non ci ha sputato nella portiera della macchina cioè ma ragazzi ma la gente ma come cazzo sta che se aveva il finestrino aperto andrea si arrivava in faccia ma come stanno messe alcune persone